Musica Certamente il tour di Panorama è un bel momento per l'intero territorio casertano. Panorama sono circa 3-4 anni che organizza il tour in una decina di città italiane e quest'anno l'ultima tappa, appena quella dopo New York, è toccata a Caserta. È la rappresentazione delle bellezze casertane, le bellezze territoriali, le eccellenze, quindi siamo passati dalla Reggia, i riseraconsgarbi, agli altri momenti belli. Abbiamo rappresentato la faccia buona della provincia di Caserta, quella che ci piace rappresentare, quella che troppo spesso non viene raccontata. È questa occasione che ci sta offrendo il settimanale, con gli approfondimenti che sono stati realizzati, diversi appuntamenti, alcuni dei quali hanno ragionato di eccellenze, di economia, dove abbiamo potuto rappresentare i numeri di un'economia dinamica, importante, di un mondo delle imprese, di cittadini che hanno tanta voglia di fare. Allora ben venga che venga rappresentata, evidentemente, ogni tanto la faccia vera di questa nostra città, ma di questo nostro...